Salve a tutti i friends su Super Corrist Gamer Ragazzi è appena finita la gara di MotoGP Anche se questo video lo vedete più tardi Perché ho degli impegni oggi Veramente bella gara Mi è piaciuta Sì davanti non c'è stata una battaglia clamorosa Almeno tra il primo e il secondo posto Perché comunque se ne sono andati via così Ma è stata una bella gara ragazzi Mi è piaciuta C'è nettamente un migliore secondo me della giornata È un po' nettamente il peggiore Però devo dire Veramente una gara emozionante Primi due passi italiani Una grande aprilia Ne parleremo subito Con le pagelle come al solito Iscrivetevi al canale Lasciate un like Iscrivetevi al primo canale Seguitemi su tutti i miei social Sul canale Telegram delle offerte Super Corrist offerte Amazon Dove tutti i giorni vi metto il migliore offerte In ambito tecnologie e videogiochi di Amazon C'è Fruit Rob C'è Twitch C'è il canale ufficiale Super Corrist 84 Di Telegram Per le news in anteprima E per decidere insieme a me In base a dei sondaggi Cosa portare sul canale Allora ragazzi Partiamo subito Chiaramente Vi dico già Vi annuncio anche che Il peggiore della giornata Il flop Fabio Quartararò Francamente Sì Può capitare Quindi non è che va a incidere Più di tanto su una stagione Che penso lo vedrà Abbastanza agevolmente Campione del mondo Però ha fatto un errore Molto grossolano L'abbiamo visto Buttarsi in una curva Quando era abbastanza dietro In maniera troppo semplicistica Ha rischiato di far cadere Espargarò E ha avuto fortuna Nella sfortuna Ha avuto fortuna Perché se lì Non prendeva Espargarò E cadeva da solo Secondo me Alex Espargarò Oggi poteva almeno Vincere la gara O al peggio Arrivare secondo Quindi Gli è andata di lusso Quartararò Che nel giorno in cui Fa uno zero E cade Sbaglia Dopotanto Diciamo Intacca la gara Anche di Espargarò Perché in quel momento Espargarò si è ritrovato dietro E ha dovuto fare Una rimonta furibonda Quindi gli è andata benissimo Un Espargarò Che comunque Si avvicina in classifica Perciò Adesso diremo le paggelle Perciò Quartararò Oggi voto due Perché Rovina la sua gara E rovina purtroppo Anche quella Del suo rivale Nel mondiale Gli va bene Ma Raga È umano anche lui Però nell'arco di una stagione Quanto sbaglia Due volte Non sono sufficienti Per Gli altri Per sperare di vincere un mondiale Questo è il discorso Parliamo di Vabbè Vediamo un po' a casaccio Quelli che stanno dietro Morbidelli Non lo commento I soliti Vabbè Luca Marini Mi dispiace Perché purtroppo È stato preso Da Mir Folle Mir Nel partire così Quindi Luca Marini Che comunque Non si può giudicare Più di tanto Così come Non giudico Dovizioso Perché per me Non è È ormai inutile Giudicare un pilota In disarmi Se fossi Dovizioso Lascierei la tuta a casa E me ne andrai a pescare A fare qualche Qualche altra cosa Perché è scandaloso Cioè Se fosse stato su Aprilia Vorrei vedere dove stava A questo punto Se hai giocato Il finale di carriera Dovizioso Alex Marquez Francamente Come di Giovanna Di Gian Antonio Non l'ho visti Perché francamente Non li hanno inquadrati Quindi non li posso giudicare Diamo un voto A Johan Zarco Johan Zarco Voto tre Perché francamente In un mondiale Dove tu comunque Sei agganciato al treno Oggi se prendevi tanti punti Ti potevi riavvicinare Alla vetta Arrivi Tredicesimo Male Molto male Zarco non è un pilota Che può lottare Per un mondiale Secondo me La mia personalissima idea È un buon pilota Che vive delle domeniche Buone Ma niente di più Quindi Secondo me Oggi Si mette la parola fine A qualsiasi sogno Di mondiale Che io non l'ho mai avuto Nei suoi confronti Però Ho visto che Quando inizia la gara Si parlava di Zarco Ancora Ancorato al mondiale Secondo me no E oggi È la definitiva Consacrazione Del non mondiale Di Zarco Nakagami Lasciamo perdere Questo è un mezzo Tsunoda Un mezzo kamikaze Che fa partenza Senza senso Long lap penalty Io ve l'ho detto Si fa anche Delle gare buone Ma il classico Giapponese È molto poco concreto E ne ha Bastianini A buona Nakagami Voto 1 Ne ha Bastianini Voto 4 Perché Su una pista Dove veramente Si vede il pilota Lui non c'è Francamente È il Lizza L'anno prossimo Anche perché Il team Gresini Ha annunciato Che arriverà Marquez Quindi lui non ci sarà È il Lizza Per Secondo me Stare O nel team ufficiale O nel team Pramac Con la moto ufficiale Però Devo dirvi Che dopo un inizio Fantastico Si sta perdendo Questo pilota Le qualità Ce l'ha Perché non vinci Tre gare in MotoGP La stagione d'esordio Manco Valentino Rossi L'ha vinta Quindi le qualità Sicuramente ci sono Però si deve un po' riprendere Perché Raga Non mi sta piacendo Alex Rins Voto 6 Decimo Comunque Buona prestazione Lui che ha avuto Problemi al polso Si è operato Grandi problemati Una stagione Che poteva andare Sicuramente meglio Per Rins Sono stati errori suoi Poi Nakagami Che l'ha preso sotto A Barcellona Una stagione Che si sta rivelando Più complicata Del previsto Vedremo l'anno prossimo Dove si accaserà Si pensa Forse con Cecchinello Però è chiaro Che scendi da una moto Ufficiale E ti ritrovi In un team satellite Raga Non è facile Non è facile Probabilmente La parte migliore Della carriera di Rins È passata Vabbè Olivera Non l'ho visto per niente Quindi voto 6 Solo per la posizione In classifica finale No Ma non l'ho visto per niente Non lo posso giudicare Mir voto 4 Sì Buono che ti prendi Un ottavo posto Ma questo è un pilota Veramente miracolato Perché ve l'ho sempre detto Mir non era un pilota Che se non In condizioni Incredibili Avrebbe potuto mai vincere Un mondiale Perché non merita Di stare insieme A altri campioni Del mondo E questa stagione Sta facendo Veramente male Cade sempre Fa sempre errori Almeno l'anno scorso Comunque era sempre Costante E faceva punti Si è fermato Di botto Sulla griglia Rischiando di essere Tamponato Prima pazzia Parti a kamikaze Dritto contro Luca Marini E gli rovini La gara Gli rovini la moto Cioè Questo merita Una penalità Non mi sta piacendo Quest'anno L'anno prossimo Probabilmente Sarà sulla onda Ufficiale Con Marquez Ma è un pilota Che quest'anno Mi sta veramente Deludendo Ripeto Non è mai stato Un grandissimo Campione Ma quest'anno Sto facendo errori Davvero Inenarrabili Jörg Martin Voto 6 Perché comunque Raga Secondo me Ha avuto un calo Fisico Perché stava facendo Un'ottima gara Fisso Il terzo posto Stava facendo Veramente una grande gara Poi la fin fine C'è stato un cedimento Totale Io penso C'è stato un cedimento Fisico Perché non si spiega Comunque un pilota forte Raga Martin Un pilota forte Mi dite Ma sbaglia Ma tutti sbagliano Ma comunque Ottiene risultati È un pilota forte Io spero Che ci vada Bastianini Sulla Ducati ufficiale Ma penso Che Ducati Non farà Questa pazzia Perché comunque Martin Ha più esperienza E Sì Nel team ufficiale Può dire la sua Pilota forte Pilota che Se leviamo gli errori Sporadici Comunque Non sempre che fa È una forma fisica Da migliorare Può dire la sua Da Binder Cioè Raga Questo è un pilota Che Ha delle qualità Però francamente Ci si aspettava di più Sembrava il nuovo Stoner Non lo è Credo che anche lui Ormai Ritornando Scendendo Su una KTM Che stiamo vedendo Non è sicuramente Una moto molto competitiva Per lottare per il mondiale Probabilmente Anche se molto giovane Ha superato la fase migliore Della sua carriera Quest'anno era la stagione Dove si pensava Potesse lottare per il mondiale Così non è stato E oggi Ripeto Un podio possibile Da un podio possibile Ti ritrovi sesto È l'emblema di una stagione Perlomeno Bagnaia Se non cade Vince Lui invece Molto male Molto male Ragazzi Mi ha deluso fortemente Mi aspettavo molto di più Dalla carriera di Jack Miller Brad Binder Voto 7 Perché con una KTM Fare una gara Comunque In lotta per il podio Fino alla fine Comunque di Una gara corposa È un ottimo risultato Spesso è lui Il migliore delle KTM Sta facendo una buona stagione Delude KTM Perché ripeto Dopo le ottime vittorie Dell'anno scorso Inizio di stagione Ci si aspettava Una KTM In lotta per il mondiale Così non è purtroppo E devo dirvi che Mi dispiace Perché comunque Sarebbe stato un team In più che lotta Più divertimento La vedo dura Da qui a fine stagione Di fare dei podi Per Binder E per la KTM Olivera e quant'altro Però oggi Mi è piaciuto Mi è piaciuto Binder Ripeto È stata una bella battaglia È venuto su pure lui Con ottimi tempi È un pilota coriaceo Che fa pochi errori Bene Molto bene Mi è piaciuto Dai Beh raga Alexi e Spargaro Ve lo dico già È il top della giornata Sarò che io amo L'Aprilia Però ragazzi Devo dirvi Che quando l'ho visto Uscire fuori Con Quartararò Avere difficoltà Anche a ripartire Dal ghiaione Ripartire Rientrare Non so Era comunque Ai margini Della zona punti E fare una rimonta Così clamorosa Ragazzi Dimostra quanto Questo pilota Si è maturato E quanto riesce A spingere al top Una moto L'Aprilia Che ormai È una moto top Perché abbiamo visto Che A livello di motore Sta più o meno A livello Ducati Poco poco sotto E ha una guidabilità Eccezionale Non a caso Pignales è sul podio Una rimonta Fragorosa È riuscito a fare Tutti i giri Sul Eh ma non mi ricordo Il tempo preciso Ragazzi Però comunque Tutti i tempi A livello mostruoso Mi sembra Era il 35 5 Una cosa del genere Ah ma sta scritto qua Aspettate 32 5 Tutti i tempi Sul 32 5 32 6 32 7 Una rimonta Fragorosa Due giri Dalla fine Era mi sembra Settimo Al posto di Martín Supera Martín Arriva nell'ultima staccata Ne passa a due Quindi Grandissima precisione Grandissima confidenza Grandissima bravura Ed è purtroppo Un risultato Ragazzi Che oggi Gli va stretto Perché Poteva vincere Se non fosse Incappato in quel problema Con Quartararo Poteva vincere Almeno Poteva arrivare secondo E sarebbero stati punti pesantissimi Quando io vi dicevo I 10 punti persi A Barcellona Peseranno Pensate Se avesse quei 10 punti in più Sarebbe a meno 11 Da Quartararo Invece a meno 21 Però raga Vedo che è difficile Perché purtroppo Spargarola Sempre una difficoltà Nel vincere le gare E questo mondiale Non lo vince Arrivando Secondo Terzo Quarto Per vincere Devo affilare 2-3 vittorie Può anche accadere Perché Aprile È una moto Matura Però lui è un pilota Fantastico Quest'anno Lo sto dimostrando Perché in carriera Non è stato sempre fantastico Però raga La vedo difficile Comunque oggi Ha fatto una rimonta Clamorosa E che per me Lo pone ai massimi livelli Cioè oggi Il migliore della giornata E mi ha entusiasmato Soprattutto L'ultimo sapasso Maverick Vignales Voto 7 Perché Sì è a podio Ma Dobbiamo anche mettere Che sono usciti Fuori Due pezzi da 90 Come Quartararo E Spargaro Sennò difficilmente Avrebbe preso il podio Però Una crescita Vemente Che si era vista pure In Germania E oggi Un terzo posto Senza fare errori Battagliando bene Con Miller Sconfiggendolo Mi è piaciuto Perché comunque Vignales è un pilota Che anche lui Non è costante Nell'arco di una stagione Però quelle 5 Però quelle 5-6-7 gare Quando è in palla Fa degli ottimi risultati Il fatto che è arrivato terzo Dimostra la bontà Dell'Aprilia Un risultato buonissimo Anche per l'Aprilia E mi è piaciuto Dai Mi è piaciuto Ottimi tempi Non è veloce Come Spargaro Però Nel finale di stagione Me lo aspetto Sempre molto avanti Perché comunque La moto c'è E lui Ci sta prendendo confidenza Pensate Dovizioso Se si fosse sposato Con Aprilia Dove sarebbe Beh ragazzi Bezzecchi Voto 9 Perché Francamente Con un'Aprilia Non ufficiale Un rookie Nell'università Del motociclismo Quindi una delle piste Più difficili E ve lo dico Che anche Giocarci virtualmente È complicata Prestazione sontuosa Incredibile Mi è piaciuto tantissimo Ha fatto una gara Senza sbavature Senza errori Ha messo molta pressione A Pecco Bagnaia Poi ha perso qualcosa Alla fine Però penso che Pecco Fosse anche abbastanza In controllo Però comunque Ragazzi Un pilota così giovane E che nel primo anno Di MotoGP Prendere il primo podio Per il team di Valentino Rossi In quella In quel contesto È stato fantastico Certamente Anche lui Ha usufruito Della Doppia Diciamo Eliminazione Di Quartararo E Spargarò Però grandissima gara Non ha fatto errori Anche quando Piovicicava È stato sempre pulitissimo Grandissimo risultato Ragazzi Speriamo che possa fare bene E una stagione In crescendo Che Possa arrivare A massimi livelli Perché comunque Un pilota italiano Che ha un buon talento Tutti parlavamo di Bastianini Però vedete Come si stanno affacciando Anche altri piloti Nelle posizioni top Quindi bravissimo Bastianini Bezzecchi Allora Pecco Bagnaia Voto 8 Perché È chiaro Che grandissima vittoria Però guidi un'Aprilia Scusate Guidi una Ducati ufficiale Ducati per ora Secondo me In questo momento È la miglior moto Del moto mondiale Perché Non ha grandi difetti È una moto Che ha il motore migliore Ha una guidabilità Comunque buona Magari poco inferiore A Aprilia E Yamaha Però ottima E fa quello Che ci si aspettava Da lui Vincere Vincere È l'ennesima vittoria Della stagione La terza Però ragazzi Purtroppo Paga Le tantissime cadute Che Continuativamente Fa negli anni Dispiace perché Questa è una stagione Dove Come anche l'anno scorso Bagnaia poteva lottare Per il mondiale E con una moto Del genere Vincerlo Ed invece Ci troviamo qua A parlare di un Bagnaia A 60 punti Da Quartararo Che non recuperi mai È chiaro Che Bagnaia Sì Gli darei un'altra occasione L'anno prossimo Di guidare la moto ufficiale Sono sincero Però è anche chiaro Che gli affiancherai Un pilota Potenzialmente Da prima guida Perché Bagnaia Purtroppo Ha Un'incostanza Di base Con una moto Del genere Un team del genere Non puoi cadere Così tante volte Se cadi così tante volte È un problema Di deconcentrazione E di non bravura Perché Non si spiega È un ottimo pilota Ma queste lacune Di continuità Ce l'ha E sono lacune Che ti possono costare I titoli mondiali E il non lottare Per il mondiale E a lungo andare Il posto Nel team principale Io penso Gli daranno un'occasione Anche l'anno prossimo Però Ragà Già dalla prossima gara Adesso c'è la sosta Devi dimostrare Perché non ti puoi permettere Di sciolinare Fai tre vittorie E dopo per altre gare Non arrivi mai È impossibile Fatemi sapere Che ne pensate E poi io vi do appuntamento A prossimi video E il vostro supercorso Stegamer Ciao 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 Ciao